In questa video lezione parleremo delle relazioni tra Italia e Germania dalla crisi del primo dopoguerra, dunque dal 1919 al 1930, escludendo tutta quanta la parte delle relazioni tra il fascismo e le destre tedesche e la successiva ascesa al potere del nazionalsocialismo, che sarà oggetto di una seconda lezione. I rapporti tra Italia e Germania furono fortemente influenzati dal primo conflitto mondiale. Prima di tutto perché il Regno d'Italia nel 1915 aveva preso la decisione di entrare in guerra al fianco delle potenze dell'intesa, dunque Francia, Inghilterra e Russia, tradendo il patto militare stipulato nel 1882 con la Germania e l'impero austro-ungarico. La scelta italiana va inquadrata in un contesto ben preciso, che è quello del Patto di Londra, un patto segreto che venne firmato il 26 aprile 1915 con le potenze dell'intesa, che avrebbe garantito all'Italia, in cambio dell'entrata in guerra al fianco di Inghilterra e Francia, ingenti conquiste territoriali. Il secondo motivo risiede proprio nelle conquiste che l'Italia ottenne alla fine del primo conflitto mondiale, nell'ambito della Conferenza di Pace di Parigi. I lavori della Conferenza di Pace si aprirono il 18 gennaio del 1919 nella regia di Versailles e si protrassero per oltre un anno e mezzo. Gli obiettivi dei partecipanti erano ridisegnare la carta politica del vecchio continente, sconvolta dal crollo contemporaneo di ben quattro imperi, quello tedesco, quello austro-ungarico, quello russo e quello turco, ricostruire un equilibrio europeo e in ultimo creare un organismo in grado di garantire la sopravvivenza del nuovo assetto territoriale e soprattutto di salvaguardare la pace. Alla Conferenza di Pace parteciparono le potenze vincitrici con i rispettivi rappresentanti e abbiamo infatti, nell'immagine da sinistra a destra, l'Inghilterra, il Regno d'Italia, la Francia ed infine gli Stati Uniti. Occorre fare delle brevi precisazioni sul ruolo svolto da queste quattro potenze. Il peso maggiore fu sicuramente quello degli Stati Uniti, che con i famosi 14 punti redatti dal presidente Wilson cercò di proporre una pace democratica. Dall'altra parte invece si oppose a gran voce la Francia, che predirigeva una pace punitiva nei confronti della nazione riconosciuta come unica responsabile del conflitto, ovvero la Germania. Per quanto riguarda l'Italia, anche se Orlando viene annoverato tra i grandi quattro di Versailles, egli gioca un ruolo abbastanza secondario, tant'è che non riuscì ad ottenere tutto ciò che era stato promesso con il patto di Londra. Nell'ambito della Conferenza di Pace di Parigi vennero siglati vari trattati plurilaterali volti a riorganizzare l'assetto europeo. Per quanto riguarda la Germania, il trattato che decise il destino tedesco fu il famoso trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919. Nella propaganda nazionalista tedesca il trattato venne ben presto battezzato come diktat, ovvero in posizione, per il suo carattere non negoziato. La Germania infatti non partecipò alle trattative, ma si limitò a firmare il trattato sotto la minaccia, da parte delle potenze vincitrici, dell'occupazione militare e del blocco economico. Fu un trattato particolarmente punitivo e si rivelò nella lettera e nello spirito come una genuina creatura dello spirito di vendetta del nazionalismo francese. L'articolo 231 del lungo trattato, infatti, formulava la confessione della Germania di essere stata la sola responsabile dello scoppio del conflitto e, in conseguenza, sanciva per essa l'obbligo di pagare alle potenze vincitrici le riparazioni di guerra. L'entità di queste riparazioni venne fissata solo in seguito. Oltre al pagamento dei danni, il trattato sanciva anche tutta una serie di mutilazioni territoriali per la Germania. Vediamo, infatti, la restituzione alla Francia dell'Alsazia e della Lorena, che le erano state strappate nel 1870-71, il distacco del bacino minerario della Saar, affidato per 15 anni all'amministrazione francese, la Germania vide inoltre sfuggirsi le province polacche che deteneva da quasi due secoli. Esse, con le restanti terre polacche già austriache e russe, diedero vita al nuovo stato della Polonia, la quale ottenne anche uno sbocco sul mare con la creazione del corridoio polacco, ossia una fascia di terra che tagliava la Germania dalla Slesia orientale. Danzica venne dichiarata città libera e posta sotto il controllo internazionale. In ultimo, la Germania perse tutti i suoi possedimenti coloniali. Le potenze vincitrici, inoltre, premevano per l'ottenimento di ulteriori garanzie contro un'eventuale rinascita della potenza tedesca. Tali garanzie erano innanzitutto di natura militare e consistettero nella limitazione degli armamenti tedeschi, nella riduzione dell'esercito a soli 100.000 uomini e nella smilitarizzazione della Renania, che per 15 anni sarebbe stata occupata dalle forze dell'intesa. Il Trattato di Versailles segnò anche la nascita della Società delle Nazioni, che aveva lo scopo di prevenire eventuali guerre. Veniamo ora alle conquiste italiane. Come abbiamo visto, l'Italia si sedette al tavolo dei vincitori e rivendicò quello che le era stato promesso con il Patto Segreto di Londra del 1915, ovvero il Trentino, il Suttirolo fino al confine naturale del Brennero, la Venezia Giulia, l'intera penisola istriana ad esclusione della città di fiume, e una parte della Dalmazia, con numerose isole adriatiche. Fu però il Trattato di Saint-Germain, firmato il 10 settembre del 1919, a stabilire i territori che effettivamente sarebbero stati ammessi all'Italia. Dunque, le terre redenti, il Trentino e il Suttirolo fino al confine del Brennero, Trieste, l'Istria ad esclusione della città di fiume, e non ottenne però la Dalmazia. Il motivo risiede nel fatto che al momento del Patto di Londra non si prevedeva il crollo totale dell'Imperasburgico, e tantomeno quindi la nascita di una Jugoslavia unitaria. La situazione al termine del conflitto, dunque, era decisamente mutata, poiché la Jugoslavia considerava la Dalmazia parte del territorio nazionale, e la sua tesi era ampiamente condivisa dal presidente degli Stati Uniti, Wilson. La questione della Dalmazia, come quella della città di fiume che sarebbe esorta nel frattempo, restò per il momento sospesa, e contribuì ampiamente ad avvelenare l'atmosfera del dopoguerra. La questione adriatica fu risolta solo l'anno dopo, nel 1920 con il Trattato di Rapallo, che assicurò all'Italia la città di Zara. Al termine della Conferenza di Pace di Parigi, sia la stampa che l'opinione pubblica tedesca espressero dei forti rancori nei confronti dell'Italia. Rimase infatti sempre viva l'idea del tradimento italiano nella Grande Guerra, ma il problema maggiore nacque certamente dall'annessione, al territorio italiano, delle terre redenti. Queste, prima parte dell'impero austro-ungarico, aveva una popolazione a maggioranza di lingua tedesca, e dunque fu la stessa opinione pubblica sul tirolese a sollevare le prime proteste. Nonostante questa delicata situazione, tra il 1920 e il 1922 assistiamo ad una fase di riequilibrio nelle relazioni tra le due nazioni. Questo principalmente per due motivi. Prima di tutto, il governo liberale italiano, in accordo con il re Vittorio Emanuele III, non attuò una politica di repressione nei confronti della popolazione tedescofona. Anzi, la linea fu quella del rispetto delle autonomie e delle tradizioni locali, come dichiarò lo stesso Vittorio Emanuele III nel discorso della Corona del 1 dicembre 1919. 1919. Il secondo motivo, sicuramente più forte in questa fase, era la delicata situazione interna a cui due paesi dovettero far fronte. La Repubblica tedesca era stata proclamata nel novembre 1918, all'insegna del connubio tra lo Stato Maggiore dell'Esercito e la Socialdemocrazia. Questa unione era stata possibile grazie alle posizioni di entrambi i fronti. I Socialdemocratici erano contrari a una rivoluzione di tipo sovietico e favorevoli invece a una democratizzazione del sistema politico, entro il quadro delle istituzioni parlamentari. Non intendevano soprattutto smantellare le strutture militari e civili del vecchio Stato, almeno fino alla convocazione della Costituente. Si creò dunque una convergenza fra i capi della SPD e gli esponenti della vecchia classe dirigente, che vedevano nella forza socialdemocratica e nel suo ascendente sulle masse l'unico argine efficace contro la rivoluzione. I capi dell'esercito dunque si impegnarono a servire lealmente le istituzioni della Repubblica, in cambio però di garanzie circa il mantenimento della tradizionale struttura gerarchica delle forze armate. La linea moderata scelta da SPD portò inevitabilmente allo scontro con le correnti più radicali del movimento operaio, in particolare con i rivoluzionali della Lega di Spartaco, che predirigevano invece la via del bolshevismo sovietico. Nel gennaio 1919 gli spartachisti tentarono a Berlino una sollevazione, ma furono stroncati ferocemente dalla socialdemocrazia con l'aiuto dei corpi franchi. I leader del movimento spartachista vennero trucidati nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. Pochi giorni dopo questa rivolta, il 19 gennaio, si tennero le elezioni per l'Assemblea Costituente e i socialdemocratici si affermarono come il partito più forte, ma non riuscirono a raggiungere la maggioranza assoluta. Non potendo quindi esercitare il potere in autonomia, cercarono un accordo con almeno una parte dei gruppi borghesi, dunque con i cattolici del centro oppure con i partiti di matrice liberale. L'accordo tra queste forze rese possibile la formazione di un governo di coalizione a guida socialdemocratica e, cosa più importante, il varo della nuova Costituzione repubblicana. La Costituzione venne varata nell'agosto 1919 e prese il nome dalla città in cui si svolsero i lavori dell'Assemblea Costituente. Si presentava come una Costituzione indiscutibilmente democratica, che prevedeva il mantenimento della struttura federale dello Stato, il suffraggio universale, un governo responsabile di fronte al Parlamento, eletto con sistema proporzionale, e un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo, il cui mandato durava sette anni. La Costituzione di Weimar rappresentò nell'Europa degli anni venti un modello di democrazia parlamentare aperta e avanzata. Ne abbiamo testimonianza nel rigoglio di attività intellettuali che fecero della Germania wemariana il centro più vivace della cultura europea del tempo. La crescere delle attività intellettuali era strettamente collegato al clima di grande libertà che si respirava e che faceva singolare contrasto con l'atmosfera chiusa e conformista della precedente da Guglielmina. Nonostante ciò, molti furono i fattori che contribuirono a insidiare la vita democratica e a indebolire il sistema repubblicano. Si verificò infatti un proliferare di movimenti di estrema destra e di estrema sinistra. Particolarmente pericolosi si rivelarono i gruppi di estrema destra, che diffusero la leggenda della pugnalata alla schiena, secondo cui l'esercito tedesco sarebbe stato ancora in grado di vincere se non fosse stato tradito da una parte del paese. Si trattava ovviamente di una leggenda priva di fondamento, ma servì ugualmente a gettare discredito sulla repubblica nata dalla sconfitta. Il secondo fattore fu una frammentazione dei gruppi politici, che rendeva instabili maggioranze e governi. Questo problema era strettamente legato all'assenza di una forza egemone, capace di dominare i nuovi fenomeni sociali. L'unica forza in grado di aspirare a questo ruolo era la SPD, che rimase per circa un decennio il partito più forte in Germania, ma non riuscì mai ad allargare i suoi consensi al di là del tradizionale elettorato operaio. Ulteriore fattore di indebolimento fu la questione delle riparazioni di guerra. Come abbiamo visto nelle precedenti slide, la montare delle riparazioni non venne stabilito a Versailles, ma due anni dopo. Dunque nella primavera del 1921, una commissione interalleata stabilì la cifra spaventosa di 132 miliardi di marchi oro da pagare in 42 rate annuali. L'annuncio dell'entità delle riparazioni suscitò in tutta la Germania un'ondata di proteste e i gruppi di estrema destra, fra i quali si stava affacciando l'ancorpiccolo partito nazionalsocialista, scatenarono una vera e propria offensiva terroristica contro la classe dirigente repubblicana, accusata di essersi piegata alle imposizioni dei vincitori. Tra il 1921 e il 1923 comunque i governi di coalizione si impegnarono a pagare le prime rate delle riparazioni. Tornando alle relazioni tra Italia e Germania, vista la delicata situazione interna, alla Germania non sarebbe convenuto in questo particolare momento stabilire relazioni ostili con qualsiasi altro paese europeo, considerando che dall'altra parte vigeva lo stesso principio, almeno fino al 1922. In Italia, nel primo dopoguerra, troviamo un clima molto simile a quello vissuto in Germania. Anche se l'Italia era un paese vincitore, la polarizzazione delle tendenze e delle attese rispetto alla pace non era molto diversa da quella che si era prodotta in Germania. Vediamo dunque i fattori di crisi. Sicuramente dei seri problemi economici, ovvero uno sviluppo spropositato di alcuni settori dell'industria, uno sconvolgimento dei flussi commerciali e in ultimo un deficit gravissimo del bilancio statale. A questi si aggiunsero degli sconvolgimenti sociali, poiché tutti i settori della società tendevano più che in passato ad organizzarsi e a mobilitarsi per difendere i loro interessi. Si verificò anche un crescente malcontento nei confronti della classe politica che aveva guidato le trattative a Parigi. In questo punto va inserita certamente l'azione più clamorosa, ovvero l'occupazione della città di fiume, guidata dal poeta Gabriele D'Annunzio, che coniò anche il famoso termine di vittoria mutilata. Data questa mancanza di fiducia nei confronti della vecchia classe dirigente liberale, si affacciarono sulla scena politica nuove forze, in particolare il Partito Popolare Italiano, creato da Don Luigi Sturzo, il Partito Socialista Italiano, che registrò una rapidissima crescita di consensi, e in ultimo i fasci di combattimento, nati il 23 marzo 1919 a Milano, da Benito Mussolini. Questo movimento richiedeva alcune odaci riforme sociali e si dichiarava favorevole alla Repubblica, pur ostentando nel contempo un acceso nazionalismo e una forte avversione nei confronti dei socialisti. Vediamo ora gli effetti di queste crisi interne. Prima di tutto si consumò il crollo della vecchia classe dirigente alle elezioni del 1919, in favore dei socialisti e del Partito Popolare. Dal momento però che i socialisti si rifiutarono di collaborare con i gruppi borghesi, l'unica maggioranza possibile era quella basata sull'accordo tra popolari e liberal-democratici. Su questa precaria coalizione si basarono gli ultimi governi dell'età liberale. Nel giugno 1920 a costruire il governo fu chiamato all'ormai ottantenne Giovanni Giolitti, che riuscì ad ottenere i suoi più importanti risultati in politica estera, ad esempio con la risoluzione della questione adriatica, ma fallì nell'ambito della politica interna, tant'è che sotto il suo governo si consumò, nell'estate 1920, l'occupazione delle fabbriche, che fu l'episodio più drammatico nell'ambito dei conflitti sociali. La vertenza vedeva contrapposti da un lato gli industriali e dall'altro una categoria operaia compatta, organizzata dal più forte dei sindacati, la FIOM, ovvero la Federazione Italiana Operai Metallurgici. La situazione si risolse nel settembre, quando Giolitti riuscì a far accettare agli industriali un accordo che accoglieva nella sostanza le richieste economiche della FIOM. Sul piano sindacale, dunque, gli operai uscivano vincitori dallo scontro, ma sul piano politico la sensazione dominante era di delusione nei confronti delle attese maturate nei giorni eroici dell'occupazione. L'esito dell'occupazione delle fabbriche ebbe ripercussioni anche sul Partito Socialista Italiano, che subì la sua prima scissione nel gennaio 1921 con la nascita del Partito Comunista d'Italia. Mentre il PSI dunque si disgregava, il 7 novembre 1921 nasceva il Partito Nazionale Fascista, con la sigla PNF, che raggiunse in poco tempo ben 300.000 iscritti. All'iniziale nucleo milanese si aggiunse una componente rurale e agraria. Iniziò inoltre a dilagare il fenomeno dello squadrismo, che diede vita ad una vera e propria guerra civile tra fascisti e socialisti. Alle elezioni del maggio 1921 i fascisti riuscirono a portare in Parlamento i loro primi deputati, tra cui Mussolini, all'interno dei cosiddetti blocchi nazionali, ottenendo anche una legittimazione da parte della classe dirigente. I successivi due governi, Bonomi e Facta, siamo dunque tra il 1921 e il 1922, furono incapaci di contenere lo squadrismo fascista e sancirono la fine dello Stato liberale. Il PNF nel 1922 si trovò dunque in una situazione alquanto favorevole. Da una parte la condiscendenza dello Stato, che non accennava a reagire davanti al fenomeno dello squadrismo. Dall'altra, il difficile rapporto tra i partiti non permise la nascita di un fronte unico contro il fascismo. Nel Partito Popolare, ad esempio, si affermava l'idea che fosse possibile un compromesso con la nuova forza fascista, e persino il Partito Comunista d'Italia non pareva disponibile a formare un fronte unico. Il Partito Socialista, da parte sua, nell'ottobre 1922, subì una nuova scissione. I riformisti vennero espulsi e, guidati Taturati e Matteotti, fondarono il Partito Socialista Unitario. A risultare decisivo, però, fu l'atteggiamento del re, che davanti alla mobilitazione delle forze fasciste, voluta da Mussolini con l'obiettivo della conquista del potere, si rifiutò il 28 ottobre di firmare il decreto per la proclamazione dello Stato d'assedio, che era stato preparato in fretta dal governo di missionario Fatta. La mattina del 30 ottobre, dunque, Mussolini venne incaricato dal re di formare il governo, mentre gli squadristi entravano a Roma. L'avvento al potere del fascismo significò l'inasprimento delle relazioni con la Germania. Il motivo di forte tensione era rappresentato dalla politica di italianizzazione dell'Alto Adige, che Mussolini mise fin da subito in atto. Nel gennaio 1923, infatti, il Sottirolo venne incorporato, insieme al Trentino, nella provincia della Venezia Tridentina, di cui Trento divenne cavolo. Il progetto di italianizzazione delle terre redenti si basa sul progetto di Ettore Tonomei, geografo, nominato senatore del Regno nel 1923. I punti salianti del programma riguardavano, prima di tutto, le tradizioni, con la proibizione dell'uso del termine Tirol e l'italianizzazione dei cognomi, la stampa, con censure e proibizioni di giornali tedeschi, l'economia, con l'eliminazione di istituti di credito locali, e in ultimo l'amministrazione pubblica, con l'insediamento di un podestà, segretari comunali rigorosamente italiani e l'italiano come lingua ufficiale. Molti punti di questo progetto di Tolomei videro la loro realizzazione nel corso degli anni 20. Il provvedimento più importante per il processo di italianizzazione del Tirolo fu l'obbligo della lingua italiana nelle scuole, che venne imposto progressivamente con la legge gentile sull'ordinamento scolastico, entrata in vigore il 23 ottobre 1923. La scomparsa della lingua tedesca dalle scuole avrebbe significato la perdita dell'identità non solo linguistica, ma anche nazionale della comunità tedesca. Si sollevarono subito le prime agitazioni e il 3 novembre 1923 si svolse a Bolzano una manifestazione di protesta contro la legge gentile. A nulla però sarebbe servita la sollevazione popolare e nel 1925 furono vietate anche le lezioni private di lingua tedesca tenute dai docenti ormai licenziati dalle scuole. Questa politica di italianizzazione dell'Alto Adige provocò un profondo risentimento nell'opinione pubblica tedesca. Gustav Stresemann, primo cancelliere del Reich e poi ministro degli esteri dal 1923 al 1929, si dimostrò particolarmente sensibile alla questione, manifestando il suo dissenso con l'ambasciatore italiano a Berlino, Alessandro de Bosdari. Dal 1923, dunque, si registrò un crescente rigenimento del clima nella capitale tedesca ed un rafforzamento del serpeggiante spirito anti-italiano legato alla difesa delle minoranze nazionali all'estero. La stampa tedesca, infatti, non risparmiò feroci critiche verso l'atteggiamento italiano, diffondendo anche alcune notizie false a sostegno della campagna anti-italiana. La questione altoatesina, dunque, iniziò a pregiudicare le relazioni trattate a Germania e fu il punto di un vivace dibattito almeno fino alla metà degli anni Trenta. Fino a questa data, infatti, si alternano momenti di vera e propria crisi a momenti di idilliaca convivenza. Andando per gradi, nel 1925 si consumò la prima rottura, dopo la richiesta di Mussolini a Stresemann di far cessare la campagna anti-italiana sulla stampa. Il ministro tedesco oppose però un netto rifiuto, affermando di non poter privare la stampa della libertà ed, anzi, lamentò il peggioramento della situazione in Alto Adige da quando il duce era giunto al potere. La situazione, poi, peggiorò ulteriormente poco dopo, quando la stampa tedesca invitò al boicottaggio del turismo verso l'Italia e, in tutta risposta, Mussolini minacciò il boicottaggio delle merci tedesche. I rapporti tra due paesi, dunque, sembravano sull'orlo di una crisi. Questa prima rottura, però, parvescemare rapidamente. Una delle conseguenze fu la sostituzione dell'ambasciatore italiano a Berlino, De Bosdari, con il conte Luigi Aldrovandi Marescotti. Quest'ultimo fu uno dei protagonisti delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania fino al 1929. Il nuovo ambasciatore rientrava nel disegno di Mussolini di fascistizzare la diplomazia, tant'è che Aldrovandi non espresse mai i pareri discordanti con il regime. Proprio questa sua fede cieca nella politica di Mussolini lo portò ad avere un rapporto particolarmente conflittuale con Stresemann. Uno dei primi atti del nuovo ambasciatore fu infatti la richiesta al ministro tedesco di disinteressarsi della questione dell'Alto Adige e, soprattutto, di astenersi nell'ipotizzare un'unione con l'Austria, in cambio ovviamente del ristabilimento delle buone relazioni con l'Italia. Un'altra questione infatti che tenne banco nei rapporti tra le due nazioni fu certamente la questione austriaca e quella del possibile Anschluss con la Germania, questione che si radicalizzò nel 1934, ma già nei primi anni venti era chiara la politica fascista su questa questione. Alla vigilia infatti della conclusione degli accordi di Locarno, siamo dunque nel 1925, punto fondamentale rimaneva per Mussolini la garanzia contro l'unione dell'Austria alla Germania, garanzia che non era diretta contro l'Austria ma principalmente contro la Germania. Mussolini infatti non temeva soltanto la pressione diretta della Germania sul Brennero, ma vedeva, in una prospettiva più ampia, che l'unione tra Austria e Germania avrebbe significato la ripresa del conflitto. Nel 1926 poi assistiamo invece ad una fase di distensione. Mussolini appoggiò la missione della Germania alla Società delle Nazioni con l'assegnazione di un seggio permanente. Questo sicuramente significa un ravvicinamento tra le due nazioni, tant'è che nel dicembre 1926 vi fu la firma del trattato di conciliazione di arbitrato italo-tedesco. Nel 1927 invece assistiamo ad una nuova fase di crisi, a causa del secondo trattato italo-albanese del 1927, il trattato di Tirana, un trattato di natura difensiva che trovò però la netta opposizione di Stresemann in linea con la politica francese. In quel periodo infatti si è assistetta ad un avvicinamento franco-tedesco che preoccupava non poco gli ambienti politici italiani. Tra il 1927 e il 1928 dunque si consumò un ulteriore inasprimento. La stampa tedesca infatti continuò la sua campagna anti-italiana ed iniziò a boicottare le esposizioni di Milano e Torino che si sarebbero tenute nel 1928. La Germania effettivamente non partecipò all'esposizione di Milano e questo suscitò aspre critiche da parte italiana, soprattutto perché l'esposizione di Milano di quell'anno avrebbe avuto un valore altamente simbolico. Si sarebbe festeggiato di fatti il decennale della vittoria italiana nella Grande Guerra e come sappiamo la Germania considerava ancora l'Italia come una traditrice vista la scelta di fronte del 1915. Tra il 1928 e il 1929 le tensioni continuarono ad aumentare. I rapporti tra Stresemann e Aldrovandi erano sempre più precari come lamentò lo stesso ministro tedesco a Dino Grandi ma ciò che contribuì all'aumento della tensione fu certamente una manifestazione antifascista organizzata dal partito comunista tedesco che si sarebbe tenuto in Berlino nel marzo 1929. Su istruzioni del duce Aldrovandi richiese a Stresemann di impedire la manifestazione per evitare di compromettere i rapporti con l'Italia ma il ministro tedesco non accettò la richiesta promettendo solo di provare a limitare gli eccessi della manifestazione. Nonostante questa situazione complessa nel 1929 si è assistetta ad una nuova fase di distensione delle relazioni italo tedesche. Innanzitutto iniziò lo sgombero della zona dell'Arenania come era stato stabilito a Locarno e questo significò un raffreddamento delle relazioni franco tedesche che come abbiamo visto preoccupavano ampiamente i vertici politici italiani. In seconda battuta la prematura scomparsa di Stresemann venne accolta con sostanziale sollievo dagli ambienti diplomatici italiani. I rapporti con Aldrovandi infatti come abbiamo visto erano stati molto conflittuali e le loro incomprensioni erano spesso state alla base delle piccole crisi tra le due nazioni. Con la morte di Stresemann inoltre il sistema liberal democratico di Weimar entrò in crisi favorendo la crescita elettorale delle forze antidemocratiche di destra che beneficiarono inoltre della crisi economica. Come si è potuto vedere dunque le relazioni italo-tedesche negli anni venti del novecento furono caratterizzate da una certa ambivalenza anche se sicuramente furono molte più le crisi che le fasi di equilibrio. Il risentimento tedesco era certamente figlio della grande guerra e in più dalle relazioni diplomatiche sembra che i due paesi negli anni venti si considerassero reciprocamente non come un possibile partner per una concreta cooperazione ma più come una pedina da utilizzare nei propri disegni di politica internazionale. Le relazioni poi mutarono radicalmente negli anni 30 con i primi contatti tra Mussolini e la destra tedesca e poi con l'ascesa di Hitler al potere che oltre a cambiare gli equilibri europei mutò radicalmente i rapporti italo-tedeschi sia in ambito politico sia in ambito culturale.